L'almanacco della fede Di Padre Livio Oggi però il pensiero Che volevo dare Riguardava Come sia importante La devozione mariana Per tutelare la fede cattolica E cioè Cari amici Volevo dire che Lo sappiamo Il dramma Del mondo contemporaneo Già segnalato Già dal dopoguerra Lo stesso Papa Pio XII Poi drammaticamente Sottolineato Da Papa Montini Che diceva Che ciò che oggi Veramente Abbiamo davanti agli occhi E che viene messa in discussione La fede cristiana La sua totalità Cioè Viene messa in discussione Il cristianesimo Viene messa in discussione L'importanza della fede La necessità della fede E anche appunto Si propone Un'alternativa alla fede Che è una visione secolare Della vita Insomma C'è un ritorno Paganesimo Di fatto E quindi Questa è una Una forza Culturale Alimentata Proprio Dal menzognero Ovviamente Che Ha conquistato il mondo Specialmente Incominciando dall'Occidente Poi si è diffuso Un po' In tutto il mondo Questa mentalità secolare Che distrugge Il soprannaturale E che Insidia Le varie religioni Le quali però Essendo religioni umane Poi Alla fine Si adeguano All'andazzo Dell'umanità Perché Manca Ovviamente Manca la trascendenza Vera e propria E O per un motivo O per l'altro Tutte le religioni umane Cioè Quelle create dagli uomini Sono a giustificazione Poi Della vita secolare Sono A rafforzare la vita secolare A rafforzare lo Stato E quindi sono E la 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 religione Ancella Della mondanità In un certo senso Così è stata Una storia umana La trascendenza È avvenuta Con la saga scrittura Con l'intervento Di Dio nella storia Con l'incarnazione Del figlio E quindi L'incominciata La religione Vera Quella che veniva Dio direttamente Per cui Come insegna la Chiesa Tutte le altre religioni Che comunque Hanno elementi Anch'esse Di Buoni Buoni Di bontà Per quanto riguarda La preghiera Anche per quanto riguarda Il comportamento Morale Però Diciamo Sono Frammenti Di luce Rispetto al sole Che splende Di quella verità Che è Cristo E quindi Mentre Le religioni umane Sono delle credenze La religione Cattolica È una divina Rivelazione La religione Cattolica Cioè il cristianesimo È una divina Rivelazione Cari amici Allora Proprio questa divina Rivelazione È stata al centro Di un grande attacco In questi In questi ultimi Tre secoli europei Ma che era A livello Delle classi Intellettuali E poi Ha conquistato Anche i centri di studio Le università E mass media Poi è entrata A plasmare Un po' la mentalità Generale Per cui Questa visione Secolare Della vita Dove l'uomo Al posto di Dio Offizio per conquistare Il mondo Ora Cari amici Noi abbiamo visto Che questa penetrazione Chiamavano pure Modernista Come La bollata La chiesa cattolica E come la bollata La madonna Međugorje Con 5 messaggi Che toccano Questo argomento Del modernismo Strumento di satana Per disugio Sopranaturale Ha fatto sì Che in pratica Ha ridotto Il cristianesimo Ha una minoranza Una minoranza Anche in occidente Anche nei paesi D'antica cristianità E quindi La perdita Della fede È stata Una Un fenomeno È un fenomeno È stato È un fenomeno Di questi decenni Che Ha lasciato sorpresi Per la rapidità Con cui è avvenuto Per avere praticamente Spugnato Tutte le fortezze Per cui Possiamo dire In tutti i paesi Dell'occidente Cristiano I cristiani Sono una minoranza Quindi Cari amici La fede È andata Disintegrandosi Dissolvendosi Proprio come È andata Dissolvendosi Proprio Per mancanza Di forza interiore Proprio Per mancanza Di resistenza E Per mancanza Di preghiera Possiamo dire Allora Qual è L'antidoto L'unico antidoto Che abbiamo Efficace Per Resistere Alla secolarizzazione Per resistere Al dissolvimento Della fede L'unico antidoto Che abbiamo È La devozione Mariana Cari amici È Un tema Questo Della Devozione Mariana Come antidoto Come Come difesa Come fortezza Possiamo dire Per Difendere Il crollo Della fede Tanto da arrivare All'ateismo Pratico È Una tematica Diciamo Portata avanti Anche dei papi Fra l'altro Ci sono tanti papi Mariani Che hanno indicato Nella fede di Maria Quella fortezza Che Aiuta la chiesa A resistere Salle della fede Ora Quello che volevo Indicare io È proprio questo Cari amici Cioè che la devozione Mariana Non è qualcosa Di accanto Alla fede cattolica No Cioè Alla madonna Bisogna riservare Un posticino Alla fine Cioè Alla fine Dell'omelia Un posticino Per la madonna Alla fine Alla fine Di tutto Un posticino Per la madonna Ma questa È una Una mediatà Sballata È una mediatà Sballata È una mediatà Che ha nessun Fondamento Teologico Perché come diceva Un grande teologo Che è anche un vescovo Monsignor Bruno Forte Mi ricordo Mi ha letto Un suo libro Che diceva Lui che poi Tra il tuo fenomeno È un teologo Progressista Fra l'altro Diceva che Tutti i dogmi Tutti i dogmi Cristologici Tutti i grandi dogmi Della chiesa Passano Sono Sono Delle strade Che arrivano Tutte a questo centro A questa crocevia Che è la madonna Che è il dogma mariano Questo perché Si può capire Senza essere teologi Cari amici Perché la madonna È al centro Dell'evento fondamentale Del cristianesimo Qual è l'evento fondamentale Del cristianesimo L'evento fondamentale Del cristianesimo È l'incarnazione Ma nell'incarnazione Noi vediamo La fede di Maria Che crede A quelle parole Dell'angelo Crede quindi Alla diverazione Del mistero centrale Della fede cristiana Che è Sono due misteri Ma concatenati fra loro Che è il mistero Della Santissima Trinità Ed è il verbo Che si vacarne Nel suo grembo Virginale Per opera Dello spirito santo Quindi l'evento Centrale del cristianesimo Avviene in Maria Avviene per mezzo Di Maria Lei È la depositaria Della fede cattolica Perché a lei Per prima È stato rivelato Il mistero Dell'incarnazione E il mistero Della Santissima Trinità Per cui La cugina Elisabetta Le dice Beata a te Che hai creduto Quindi Cari amici Qual è la fede cattolica La fede cattolica Diceva San Paolo VI È la fede di Maria La fede di Maria È la fede cattolica Nella fede di Maria C'è tutta la fede cattolica Chi Non Chi non Tiene gli occhi fissi Su questa totalità Esistenziale Perché È chiaro che poi La fede è anche Una formulazione Orale Una formulazione Diciamo Che conosciamo Che è nel credo Che è Nella liturgia Della chiesa Che è poi Nei catechismi Della chiesa cattolica Nella sua predicazione Nelle opere Dei mistici E dei santi Però Queste sono cose esterne Ma nella sua interiorità Nel suo evento esistenziale La fede è nel cuore di Maria E lei Che si apre Al mistero Dell'incarnazione E crede Alle parole dell'angelo Che dicono Che Che Appunto Lo spirito santo Scenerà su di te E quel bambino Che tu concepirai È il figlio di Dio Lei È creduto Ha creduto In quel momento Ha creduto Per tutta la sua vita Ed è Quindi La Madonna Ha il cuore Della fede cristiana Non la puoi mettere Nell'anticamera La puoi mettere In un posticino Come dire Un contentino Sì A volte A me Mi nervosisco poi Perché Si fa tutta una fede Un discorso Un discorso Poi Quando si arriva La Madonna Questo vale anche Per le prediche Per i grandi discorsoni Libri Teologia Poi quando si arriva La Madonna Di avere un contentino Un mazzolino Di fiori E no No Non è questa La posizione cattolica Non è questo Quello che ci dice Il Vangelo Cioè Non solo Sentivano Sentivano parlare Gesù Di crocefissione Non capivano Anzi L'intimavano Di non parlarne Ma la Madonna Sapeva benissimo Capito benissimo Già fin da quando Simeone Le ha rivelato Che una spada Le avrebbe Trapassato l'anima E lì è stata Come la seconda Annunciazione A Maria Come ha detto San Giovanni Paolo II La prima annunciazione È stata quella Della gioia La seconda annunciazione È quella di Simeone È stata quella Del dolore E la Madonna Ha capito benissimo Che lei era chiamata A sostenere E affiancare Il figlio Nel sacrificio Della croce Per il quale Lei come madre Doveva Offrirlo Al padre E unirsi A questo sacrificio D'amore Che il padre Aveva chiesto Al figlio E anche lei Ha detto sì A questo sacrificio D'amore I piedi della croce Ritta I piedi della croce Cari amici Fortissima Nella sua fede Quindi Quello che volevo dire È che Non si può Conservare La fede cattolica Nella sua Stradonare bellezza E nella sua Integrità e totalità Se non ha Una forte Devozione mariana Cioè se non si ha Una forte Come dire Apertura del cuore Al mistero di Maria Se non si colloca Maria laddove Viene collocata Nella storia Della salvezza Cioè Nella storia Della salvezza Maria è centrale È centrale Quando è che incomincia Il Nuovo Testamento Il Nuovo Testamento Incomincia Con il mistero D'incarnazione Comincia Con il mistero Dall'annunciazione Incomincia Con il signo di Maria Incomincia Il Nuovo Testamento È l'inizio Tutto inizia Il Nuovo Testamento Inizia Nel cuore Di Maria Inizia Nel momento in cui Dio rivela Il mistero Nascosto nei secoli Come dice San Paolo Che si è manifestato Quando appunto Il verbo Si è fatto carne Nel grembo Di una donna Dice San Paolo Quindi cari amici Noi Per conservare La totalità L'integrità Della nostra fede Doviamo fare Continuo riferimento A Maria Dire con lei Il nostro sì Unire il nostro sì Al suo sì Difatti una volta Ha detto Voi dite sì sì Cioè Come io ho detto Il mio sì Voi dite sì sì E quindi accogliere Tutta la totalità Della fede cattolica E poi Chiedere questa grazia Perché umilmente Vanno chieste le grazie Al Signore Una delle grazie Più importanti Da chiedere al Signore Una delle grazie Più Come dire Più necessarie oggi È quello Di avere una fede Viva E integra Cosa vuol dire Avere una fede viva Vuol dire Avere una fede Che incida nella vita Che illumina la tua vita Che trasforma la tua vita Che diventa Una luce Per gli altri Questa è una fede viva Una fede integra Cari amici È una fede Che Aderendo Ai misteri principali Della fede Come ha aderito a Maria L'abbraccia In tutte le loro implicazioni In tutto ciò Che Dio ha rivelato In tutto ciò Che il figlio ci ha detto Tutte le sue parole Sono parole Di vita eterna Le mie parole Anche quelle sull'inferno Non passeranno Cieli e terra Passeranno Ma le mie parole Non passeranno Ma noi Quante ne abbiamo cancellate Di fatto Quante noi Le abbiamo cancellate Di fatto Le abbiamo rimosse Le abbiamo nascoste Avete la Madonna L'avete lei Non credo più a te Figlio mio Lo diceva Di noi sacerdoti Di noi cristiani Di noi cattolici Non credono più A te figlio mio Ma chi non crede Chi non crede Chiaro che Quelli che arrivano A non credere più a Cristo Perché non hanno creduto A Maria Perché non si sono messi Nell'atteggiamento Di apertura Di cuore di Maria Nel momento in cui Dio ha rivelato I misteri Della salvezza Dunque cari amici Questo volevo dirvi È l'addenzione Di cuore A Maria È il credere Con Maria Il credere Come credeva Ha creduto E crede Maria Ovviamente la Madonna Adesso è nella missione Di Dio Non è più nel cammino Della fede Però il cammino Della fede Resta come a noi Come indicazione Da seguire Il cammino Il cammino che ha fatto Maria Fino in cima Al calvario Fino al momento Della deposizione Questo cammino Della fede Dobbiamo farlo Anche noi Perché Perché cari amici Quello che oggi È più che mai Diciamo Sul tavolo Sul tavolo Del principe Di questo mondo È la distruzione Della fede Questo è il piano Di satana Questo vuole ottenere Ha ottenuto tantissimo Ha ottenuto quasi tutto Cari amici E quindi Adesso noi Uniamoci a Maria In questo momento Così difficile Della storia In cui Cielo e la terra Sono in guerra Perché le porte Dell'inferno Vogliono prevalere Ma non prevarranno Ma chi Chi Vincerà Chi crederà Vincerà Chi crederà Vincerà Chi crederà Con Maria Vincerà Chi Crederà Fino Diciamo così Adulare la vita Se necessario Cari amici Perché alla fine La vita su questa terra Finisce Quello che porta È Quella adesione A Cristo Come tralci vivi Che portano frutti Per la vita eterna L'almanacco della fede Di Padre Livio Grazie a tutti Grazie a tutti.